Il discorso di questa manifestazione è riprodurre il simbolo della pace e del disarmo nucleare come è stato fatto a Budapest, Praga, Helsinki, Santiago del Cile e altre città del mondo per sensibilizzare la gente sulla necessità di fare pressione su coloro che governano affinché inizi un processo di disarmo nucleare globalizzato. Volontari che ci riempiano le braccia del simbolo! Tutto questo parte dall'associazione La Svolta Umanista che sta a San Lorenzo che è una delle tante associazioni del movimento umanista che ormai da moltissimo tempo, da quando è nato praticamente nel 69, si occupa di diritti umani. Chiediamo che si accenda la luce in tutti gli elementi e i cuori perché a partire da oggi si lottano pubblicamente e si dedichi ogni sforzo al risarmo nucleare mondiale immediato e totale. E leviamo la nostra richiesta per che si ponga fine alla costa agli armamenti e alla minaccia nucleare in tutti i paesi del mondo. e leviamo la nostra richiesta perché vogliamo evitare una nuova cataclume che significherebbe la partita di milioni di vite umane nella distruzione di vasta zona del pianeta per miliardi di anni. L'amore e la compassione possano prendere il posto della violenza nel cuore degli uomini e delle donne di questo tempo. La prima volta è quella della fortità del mondo Grazie a tutti.